e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono mister mario e oggi siamo tornati su minecraft scusate se non esploriamo oggi ma prima della puntata ho cercato il post ha detto da esplorare ma non ho trovato niente quindi possiamo concire ragazzi quindi continuiamo con la creativa ragazzi in questa puntata vi volevo provare a editare una specie di piazzetta una specie di piazzetta quindi ragazzi potrebbe essere sì così va bene dobbiamo fare così chiudere sì chiudiamo è un 11 per 11 insomma si è un 11 per 11 quindi 11 di ogni lato scusate 11 per ogni lato è 11 per ogni lato quindi un quadrato va bene questa sarà la nostra piazzettina poi ragazzi nella prossima puntata se non trovo niente da esplorare continueremo con la creativa ok siamo riusciti a chiudere adesso avevo pensato ad una cosa tipo questa allora guardate si arriva qua sopra comincia una specie di staccionata quindi 1 2 3 4 5 6 sono 11 quindi ragazzi dovete metterne 3 così fare 5 di spazio e poi farne 3 di qua ok ragazzi cercheranno 5 di spazio però forse è meglio così così ce ne sono 3 di spazio ok si si va bene uscirà una strada con 3 e niente ok cos'è una mucchina cioè quindi ragazzi per il centro possiamo fare che potrebbe essere allora tutti insieme si incontrano qui quindi qua nascerà una fontanella diciamo una specie di fontana donna che mira che c'ho vabbè andiamo avanti andiamo avanti ragazzi ok così così andrebbe bene quindi adesso qua buchiamo così e iniziamo la nostra fontana allora la fontana dovrebbe uscire così guardate allora prendiamo questi anzi no questi di quarzo e mettiamo uno qua no ma non avevo pensato no ma non avevo pensato allora deviamo fare così ok così così deve uscire per forza ragazzi è un esperimento quello di poter fare una fontana perché non so se funziona veramente qui andiamo sotto tra l'altro c'è questo cosa che vola e proviamo a mettere qui un cartello quindi andiamo a prendere un cartello dov'è no l'ho superato scusate un cartello ce lo mettiamo qui ok ragazzi così l'acqua non scende ok quindi a questo punto dovremmo mettere ok così dovrebbe no quindi ora prendiamo la cosa ho fatto ho sbagliato ragazzi ho sbagliato cosa che capita da qua dovrebbe funzionare quindi allora prendiamo l'acqua secchio d'acqua qui e lo mettiamo qua 3 2 1 via funziona ragazzi funziona direi che funziona benissimo quindi ragazzi adesso che qua è pronto però è un po' troppo non va bene quindi direi di farlo un pochino più basso quindi prendiamo questo ok così dovrebbe andare ragazzi così dovrebbe andare ok 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 e ok così va benissimo ehm ragazzi adesso dovrebbe prendere forma forma questo così e ora dovremmo mettere questa qui ok ragazzi è perfetta è perfettissimo ragazzi è perfettissimo tra l'altro ho visto gli occhi di un ragno là dietro però visto che sono buono non lo caccio ragazzi visto che qua è sospeso nell'aria chiudiamolo quindi prendiamo la pietra concia e chiudiamo tutto no 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 c'è un creeper c'è un creeper saltella finchè muori ok ragazzi meno male che non è esploso perchè avrei potuto fare una carneficina non resistevo va bene ragazzi qua vabbè sotto dovrete coprire di pietra concia fino a quando non finisce ragazzi ci vediamo dopo ok ragazzi abbiamo chiuso qui ecco qua abbiamo chiuso e e ora prendiamo i vetri questi e proviamo a metterli così si funziona no 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 c'è un ragno che sta entrando dentro le coltivazioni aspettate un attimo ok vai ok vai ok adesso possiamo prendere la coltivazione a uccidere quel ragno maledetto dov'è 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 ah lì dentro guardalo guardalo guarda come ti è uccido qua uccidere guarda e torna dentro non lo fa apposta non ti mangerà non ti mangerà le mie coltivazioni infatti è morto ciao ok ok ragazzi questa era la piazza e niente nella prossima puntata nella prossima puntata faremo una stanza super segreta sotto la fontana va bene ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un piaccio qua sotto iscrivetevi commentate e noi ci rivediamo al prossimo video ciao ciao